Nel derby valido per il primo turno di Coppa Italia di Lettanti, il Pineto vince per 1-0 contro il notaresco di Mr. Tiziano De Padre. Dopo un primo tempo a reti bianche nella ripresa, Allegretti porta in vantaggio i Biancazzurri con un preciso calcio di rigore per l'11 di casa. Domenica prossima debutto casalingo contro la neo promossa Termoli per il notaresco trasferta contro il Matese. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Il derby inizia con il consueto equilibrio. Il primo squillo arriva al diciassettesimo. Allegretti punta l'aria e conclude. L'ex Shiba blocca senza problemi il rosso-blu. Rispondono al ventottesimo su corner. Cantarini sale in cielo di poco sul fondo. Dalla parte opposta ci prova il Pineto. Foglia cerca il vantaggio con poca fortuna. Nella ripresa il match ha subito il primo sussulto. Gurrini neo entrato viene atterrato da Iulitti e conquista la massima punizione dal discreto Allegretti. Non ha problemi e spiazza Shiba per il vantaggio locale. Sempre i rivieraschi vogliono il raddoppio. C'è Cacincorna blocca in due tempi il portiere ospite. Ancora i Biancazzurri spingono. Giambè è entrato da appena 60 secondi. Vuole subito la marcatura personale. Il notaresco si salva nel più classico dei corner. L'undici del presidente dottor Silvio Broccolone pago. Su azione insistita a Marche Gioni pesca Allegretti. Provvidenziale deviazione in angolo. Il notaresco non ci sta e vuole il pareggio. Pulsoni crossa al centro. Grauberg si avvita e sfiora il secondo palo. Non succede più nulla. Il Pineto vince per 1-0 e conquista il pass per il prossimo turno di Coppa Italia. Sì, beh, secondo tempo abbiamo cambiato modo. Quindi abbiamo messo in pratica un modulo diverso su cui abbiamo lavorato. Ci siamo espressi un po' meglio soprattutto. Ma soprattutto c'è stato più movimento senza palla. Quindi abbiamo fatto qualche buona azione perché c'è stato uno sviluppo con palleggio e andare sull'esterno. Abbiamo messo diversi palloni dentro. Poi non abbiamo concluso, non abbiamo fatto male. Però almeno abbiamo dato un'identità di squadra e di gioco. Ma è chiaro che dobbiamo migliorare la prima partita. Contava passare il turno. L'abbiamo fatto. E adesso il modulo, se sarà quello del secondo tempo o quello iniziale, vedremo un attimo anche il recupero di giocatori importanti che abbiamo. In questo momento abbiamo dei problemati perché Mingleri oggi ha giocato dopo tre mesi. Lo Sicco è uscito per un piccolo fastidio muscolare. Abbiamo Traini che ancora si sta curando dalla bubalgia. nel 2004 che ci può dare alternativa come modulo. Adesso in questo momento il modulo ce lo indirizza ai giocatori che abbiamo a disposizione. Noi dobbiamo cercare di adattare la squadra in base ai giocatori che abbiamo. Ma io non avevo grandi risposte, sinceramente, perché noi fino a 15 giorni fa avevamo zero calciatori. Quindi a questo punto giocarsela alla pari col Pineto penso che sia... Devo veramente fare i complimenti ai ragazzi. Sì, veramente, perché poi la preparazione è ancora... Noi siamo ancora in fase di preparazione. Ripeto, zero calciatori 15 giorni fa. Diverse persone che ci mettono il bastone tra le ruote per mille motivi. Quindi sono molto, molto soddisfatto. Puntelleremo ancora la squadra con altri 5-6 calciatori in tutti i reparti. E poi saliremo di condizione. Ma sono fiducioso per il futuro perché vedo... C'è grande armonia, vedo che i ragazzi hanno qualità, hanno voglia, c'è grande motivazione. Quindi, ripeto, abbiamo 15 giorni di lavoro. 15 giorni fa avevamo zero calciatori. Giocarsela dopo 15 giorni alla pari col Pineto. Allora... 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 Grazie.